Nuova modalità qui su Suspect, oggi praticamente dobbiamo scappare dall'assassino, cioè ci dobbiamo nascondere e scappare dall'assassino L'assassino avrà ovviamente meno visibilità di tutti, ci dobbiamo nascondere ma dobbiamo comunque fare le tasche, ok? Quindi ci dobbiamo nascondere, fare le tasche, scappare, ma l'assassino non ci deve beccare ovviamente, quindi l'assassino apparirà qua ovviamente Noi ci dovremmo comunque nascondere e vabbè non ci dobbiamo far vedere, ma quindi possiamo cominciare a fare le tasche prima che arrivi quel disgraziato di un assassino Adesso vedremo chi è l'assassino, oddio, oddio Fere l'assassino, Fere l'assassino, ammazzanico ti prego, Fere ammazzanico, Fere ammazzanico Ok perfetto, perfetto, non mi ha visto, oddio, oddio, ho paura raga, ho paura, devo nascondermi in bagno, ho fregato, ho fregato l'assassino, aiuto, aiuto Ok, mi ha perso, mamma mia che modalità ragazzi, perché l'assassino lo vediamo, sappiamo chi è, ma dobbiamo fare nello stesso tempo le tasche Cercare di non farci uccidere, fare le cose più velocemente possibile, oh mio dio questa cosa è insana, merita almeno 75 mila mi piace ragazzi Cioè veramente io non lo so, aiuto, 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 devo scappare, è Fere l'assassino, è Fere, è Fere, Marci no, Marci no, Marci dove state andando Pazzoidi, scappate voi che potete, scappate, cosa devo fare, devo raddrizzare il quadro Cosa, ok, perfetto, dritto, perfetto, attività completata, fantastico, andiamo a farci il panino, va, andiamo, adesso vado a farmi il panino Cioè in senso, faccio il panino, faccio il panino con l'insalatina e la carne, quella strana, che sembra andata male, però è buona, veramente, ve lo giuro Allora, le tasche veloci raga non fa, le tasche veloci non fa, oh mio dio, oh mio dio devo mangiarmi il panino, oh mio dio devo mangiarmi il panino e sopravvivere a Fere Oh mio dio, aiuto, no, 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 mi ha visto, mi ha visto, no, no, mi ha tirato pieno forte in testa, no, aiuto, mannaggia me Steph si sta nascondendo raga, Steph si sta nascondendo, no, è stato visto, no, Steph No, quindi chi è che manca Marci raga, manca solo Marci, oh mio dio, dov'è Marci, dov'è Marci Loco è vivo raga, Loco è l'unico poveretto Loco finisci le attività, ti prego, Loco ce la puoi fare, Loco credo in te Mamma mia raga, intanto vediamo se sono tutti morti siamo, cioè non lo so io Oddio Loco, falle l'attività veloce, quante te ne mancano, 22, te ne mancano due Loco, credo in te ce la puoi fare Ragazzi, dobbiamo aiutare Loco col più, no Loco no, no, t'ha visto, no non t'ha visto Scappa Loco, scappa Loco, scappa, devi sopravvivere Loco per tutti noi, per favore Loco, sopravvivi No Loco, no Loco che ansia, mamma mia sapere che sono lì vicini, c'ho un'ansia ragazzi, c'ho io ansia per Loco, c'ho 24, ne manca una, Loco ce la puoi fare Sì, grande Loco No raga, l'assassino Steph, ragazzi l'assassino Steph, cosa devo fare, devo fare le tasche, devo fare le tasche qua vicino Prima che arrivi Steph, dov'è, aiuto, aiuto, aiuto Io già lo so che devo scappare da Steph, già lo so che mi ucciderà Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, devo stare in un angolino, io tipo mi metto in quest'angolino qua ragazzi, devo stare fermo in quest'angolino, anzi no però Non è un bel angolino quello Devo andare ad aprire il cassetto, che è quella più lunga raga da fare Aprire il cassetto è difficile, dobbiamo farla velocemente, abbiamo l'ansia addosso Come faccio? Come faccio? Ok ce l'ho fatta, 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 dai, baddi, 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 baddi Raga le foto sono la cosa più difficile, le foto sono la cosa più difficile Devo stare attento a Steph, devo nascondermi, mi nascondo in bagno probabilmente, mi sa di sì, mi sa che mi nasconderò qua così in bagno Non meno visibilità, ora non so dove possa essere, non so dove possa essere, però se ha tirato giù le luci In teoria lui dovrebbe andare giù le luci Eh, sto qua nella lavanderia, guarda, vi dirò che sto qua proprio nella lavanderia così a fare il bravo, farò solo queste cose Va bene così, va bene così, perfetto, perfetto, perfetto Ok sono io, devo rifare le foto strappate, ma io non ho intenzione di rifare le luci, nel senso fatele voi e basta Non ce la so, sto pure fermo, tranquillo, dov'è l'impronta qua? Ecco qui l'impronta, oh che bello Ma sì, tanto abbiamo la visibilità normale alla fine, cioè non è così difficile Ah, no, mi ha preso, mannaggia a Steph che mi ha tolto la faccia Ancora la modalità del nascondino, ancora io non sono ovviamente l'assassino, però va bene così, fa niente ragazzi Noi dobbiamo semplicemente scappare e cercare di fare un fiammifero che non si accenderà mai Ok, ce l'abbiamo fatta, via, via, vatti, scappa da qua, scappa da qui Adesso in teoria l'assassino mi sembra marci, non ho capito se è marci, non ho guardato bene chi c'è qua dentro Devo cercare di controllare, devo rischiarmela questa partita C'è qualcuno già morto, arrivederci, non sappiamo chi è l'assassino, fantastico Mi fa piacere che Loco sia morto qui, buongiorno, salve, devo solo attizzare il fuoco Va bene così, eh, va bene così ve lo giuro, devo solo attizzare il fuoco, è molto bello, molto carino, molto fantastico Dobbiamo andare avanti, va bene, andiamo avanti, allora, allora, qui il panino, il panino, devo fare il panino Prima cosa devo fare il panino, allora, questo, questa è questa carne che sembra andata male da sei anni Ma a noi piace così perché siamo dei castori, quindi, nel senso, i castori mangiano la carne No, mangiano la carne i castori, non lo so ragazzi, scrivetelo nei commenti, va Andate proprio a scrivermelo nei commenti, tipo, i castori mangiano la carne Allora, io tanto sono già qua alle luci, me la rischio, me la rischio Ah, era Nico Punto, mannaggia, Nico Punto, che mi ha fatto esplodere la faccia Eh, vabbè, eh, vabbè, è andata così Sono io, vi sto venendo a cercare, dove siete? Siamo morti Steph scappa Dai, 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 che voglio uscire di tutti Non trovo l'impronta qui, mannaggia Allora Dal primo all'ultimo mi voglio uccidere Marci mi è passato di fianco e non mi ha visto, fantastico Non è che ti sei dal primo all'ultimo Io ormai ho imparato una lezione, se attraversi una porta sei morto Sì, è vero Sì, è vero Sì, è vero Non vi vedo Non ho attraversato più le porte Dove siete? Eh, guarda, io sono a security, se vuoi venire No, guarda, non, non, no Sì, no, guarda che siamo tutti a security, Marci Sì, sì, siamo tutti nascosti lì Raga, è nel salone, state attenti Ma Fere, come va? Sono entrata io in questo messo, mannaggia È nel salone, fam Nico Nico Loco, attento, no, vai attento, è qui No, 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 no Vabbè, vai su Loco, vai su Loco Ma vai su Nico No, no, è andato su di me, ragazzi Ciao, Bazzi Sì, scappa, Marci Ragazzi, scappate Mi posso solo incoraggiare Allora, è nel corridoio, Marci Stanno andando al centro della mappa Vai, Stef, ce la puoi fare Non è che mi to' Stef Sta venendo te Che snitch Non c'è bisogno di spiagli Scappa, Stef, scappa Io credo in te Io ho paura Marci è un po' cattiva questa cosa che stai facendo tu, eh Aaaaaaah Cos'è, cosa che è Nico, non te lo posso dire È una macchina, scappa L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Non dite che sono lì Via Marci, io tornerei indietro ad uccidere Loco se proprio vuoi, eh D'ugito, Buddy No Proprio è carità su Stef Esatto, ce l'ho con Stef Scappa, Stef Scappa a Stef No, no, no No, no, no No, no, no È morto lo colo, è morto Io non ho fatto mezza tasca nella mia vita No, no, ma Stef è giusto così, tranquillo, non ti preoccupare Ma manca solo Stef? Sì, sì Manca solo Stef Com'è? No, no, c'è anche Nico, c'è anche Nico Dai Stef Quante queste ti mancano, Stef? Tutte Come tu? Fagli una, Stef Questo qua non ha fatta una Mamma mia Oh no Ma le luci che ci va Eh, bisogna andarci per forza, ragazzi, sapete? Oh mio Dio Corri Nico scappa Mi è passato in mezzo Ok, Nico Quello Stef va a sicurare le luci Sì Eh, bisogna fare una tattica Lo distraggo? Ho paura che moriamo e basta Raga, le luci, bisogna fare le luci Ah, sei qui Ah, no, no Scappa, Nico Scappa, Nico Non so dove siano le queste Nico, corri No, Marci, ti prego, dammi un secondo È finita Marci, guarda a destra Marci, guarda a destra Marci, guarda che c'è Fere Ancora che stai No, no Non ha funzionato Non ha funzionato Non ha funzionato Non è completamente inutile Mamma mia Fortissimo Non ha funzionato Grazie a tutti.